Il povero Herman passò a miglior vita in giovanità, ma fortunatamente nel 1907 fece in tempo a lasciare alla comunità scientifica un metodo originale e semplice, con i diagrammi spazio-tempo detti di Minkowski, per interpretare le trasformazioni di Lorenz utilizzate da Einstein un paio d'anni prima nella teoria della relatività. Per capire di cosa si tratta consideriamo questo esempio. Immaginiamo Penelope e Ulisse. Penelope vede partire Ulisse verso destra insieme a un segnale luminoso. La velocità di Ulisse rispetto a Penelope è di 0,6 c, misurata come frazione dalla velocità della luce vale 0,6 e si indica con beta. E quindi dopo un secondo Ulisse si troverà nella posizione 0,6 secondi luce nel sistema di riferimento rosso di Penelope e il segnale luminoso verrà rilevato nella posizione un secondo luce. Penelope descrive sinteticamente questi due eventi tracciando un'asse verticale in cui riporterà il tempo in secondi con la stessa unità di misura che troviamo sull'asse orizzontale e segnerà i due punti che interpreta come evento Ulisse e evento segnale luminoso dopo un secondo. Non si tratta di punti fisici perché la scena in cui si svolgono i fatti è il binario orizzontale. Potrà fare la stessa cosa quando il tempo vale 2, quando il tempo vale 3 eccetera e se tenterà di unire i puntini se vogliamo usare una frase celebre disegnerà le linee di universo di Ulisse e del segnale luminoso che interpretano la storia di questi eventi. Un ruolo fondamentale è dato dal fattore beta, posizione di Ulisse all'istante 1. Se variamo beta varia l'inclinazione della linea di universo di Ulisse che però non arriverà mai a sovrapporsi alla bisettrice che è la linea di universo della luce perché beta varia tra 0 e quasi 1. Ora immaginiamo che accada un evento, accensione di una lampadina verde, in una posizione qualsiasi, per esempio 2,75 secondi luce nel sistema di Penelope e all'istante 3,25 secondi. L'interpretazione di Penelope è semplicissima ed è data dal punto che ha come coordinate x 2,75 e t 3,25. Ella si interroga su come Ulisse, che al tempo 3,25 secondi si trova in viaggio nella posizione 1,95 secondi luce, descriverebbe questo evento e il problema risolto da Einstein con le trasformazioni di Lorenz. Per arrivare a questo Penelope deve costruire il diagramma di Ulisse, cioè gli assi blu con le coordinate x' e t' utilizzando il fattore gamma che è strettamente legato a beta e il suo significato è il seguente. Quando Penelope ritiene che nel sistema di riferimento di Ulisse sia trascorso un secondo, per lei è trascorso il tempo gamma che in questo caso vale 1,25 secondi. Se Meta assumesse il valore per esempio di 0,867, Penelope registrerebbe due secondi quando a suo parere Ulisse registrerebbe un secondo. Possiamo tenere gamma di volta in volta con un sistema grafico come abbiamo visto nel video dedicato alla dilatazione degli istanti di tempo oppure possiamo rappresentarlo sull'asse verticale utilizzando la semplice formula utilizzata dai fisici che recava gamma da beta. Questo dà a Penelope la possibilità di ottenere una scansione nel tempo sulla linea di universo di Ulisse che può assumere il significato di asse dei tempi t''. Manca da definire l'asse delle posizioni x' per completare il lavoro Penelope deve ricordare il postulato della relatività che dice che entrambi gli osservatori misurano c come valore per la velocità della luce, cioè la linea di universo della luce deve essere bisettrice di entrambi i sistemi di coordinate. Quindi disegnerà l'asse che sarà quello delle posizioni x' che ritiene essere utilizzato da Ulisse simmetrico dell'asse dei tempi t'' rispetto alla linea di universo della luce con la stessa scansione per i secondi luce in modo che anche per Ulisse la luce percorrerà un secondo luce ogni secondo. A questo punto il gioco è fatto perché quando Penelope registra x uguale 2,75 e t uguale 3,25 per descrivere l'evento verde, secondo lei Ulisse registra x' uguale a 1 e t' uguale a 2 Questa è la soluzione con i diagrammi di Minkowski a cui si perverrebbe utilizzando le trasformazioni di Lorenz Provare per credere Possiamo far variare beta e vediamo che di conseguenza varia solo la descrizione di Ulisse O possiamo far variare le coordinate dell'evento verde e osservare come entrambi i sistemi di riferimento danno le loro descrizioni correlate Per aiutare l'intuizione a confrontare i risultati dei due osservatori Possiamo disegnare segmenti con la stessa unità di misura Inoltre possiamo mettere in evidenza come è stato fatto nel video sulle trasformazioni di Lorenz Gli ingredienti che compongono questi risultati Ma non abbiamo ancora finito Mancano i diagrammi per le trasformazioni inverse Diciamo la verità Questo argomento non è molto illustrato nella letteratura scientifica Mettiamoci nel sistema di riferimento di Ulisse supponendo di stare fermi con lui E immaginiamo che sia Penelope E si sposta con la velocità 0,6 c verso sinistra Manteniamo inalterati i significati di beta e di gamma E vediamo che possiamo costruire il sistema di assi di Penelope ad angolo ottuso Se partiamo dall'evento che secondo Ulisse ha le coordinate 1 e 2 Possiamo leggere immediatamente la descrizione di Penelope come 2,75 e 3,25 Come prima possiamo rappresentare i segmenti adottando le stesse unità di misura Per confrontarli E vedere le componenti date dalle trasformazioni di Lorenz Grazie a tutti In questa rappresentazione il monitor non è sufficiente a contenere il diagramma al crescere di beta Perciò dovremmo rimpicciolire il tutto Un grazie particolare al nostro Minkowski Per la semplicità del suo metodo che non finisce mai di stupirci Grazie a tutti Grazie a tutti